A saporare il gusto della tradizione, a Fiano di Nocciara Inferiore torna la Sagra, Sapori Antichi e Scopo to Frit. Appuntamento il 2 e il 3 settembre. Potrete gustare tante specialità e prelibatezze realizzate dalle massaie del posto. Il tutto sarà accompagnato da musica e divertimento. 2 e 3 settembre, la Sagra, Sapori Antichi e Scopo to Frit vi aspetta. Grazie a tutti.